17 e 18 ottobre a Montesilvano ci sarà questa importante manifestazione, io non rischio più che mai attuale anche visto quello che sta accadendo in queste ultime ore in Abruzzo per il maltempo. Il Dipartimento ha scelto Montesilvano tra i 25 comuni abruzzesi che ospiteranno questa manifestazione, noi siamo onorati e supporteremo al meglio questa manifestazione che vuole informare i cittadini sui rischi legati ai fenomeni idrogeologici e per dare indicazioni appunto su quello che va fatto in determinate situazioni di rischio e di pericolo. L'imbutamento improvviso dei fenomeni meteorologici porta molto spesso a delle situazioni addirittura drammatiche in città, quindi noi ringraziamo loro per il lavoro svolto in questi anni e salutiamo con assoluto piacere questa manifestazione che potrà anche in qualche modo coinvolgere, come dicevo prima, i cittadini a questa nostra azione. Saremo presenti in piazza per due giorni a dare informazione alla popolazione su come comportarsi, sono volontari formati dal Dipartimento per spiegare tutte le tecniche e i metodi per evitare di avere difficoltà in caso di alluvione, quindi invitiamo tutta la popolazione a venire al Parco Giovanni Paolo a Montesilvano per ricevere le più informazioni possibili, visto che purtroppo con il Fimesaline il problema è diventato annuale, quello delle sondazioni, ecco vi invitiamo ad ascoltarci anche per soli 5 minuti.